Buongiorno a tutti, siamo qui presso Fondazione Minopio che ringraziamo per la splendida accoglienza per una o due giorni di prova in campo con i nostri top dealer in cui proveremo tutte le nuove attrezzature a batteria e le idropulitrici. In anteprima qua siamo la Fondazione Minopio, stiamo presentando la nuova gamma di rasa erba a batteria con la nuova Livrea Steel che vedremo sui cataloghi già dal 2018. Avremo macchine nuove che amplieranno ancora di più la gamma per tutti i nostri clienti dai meno esigenti fino ai più esigenti con macchine che andranno ancora di più ad accontentare tutta la nostra clientela. La TSA 230 è la prima troncatrice al mondo completamente a batteria e che funziona in modo automatico. È possibile utilizzare il collegamento dell'acqua per evitare il polverone che normalmente queste macchine fanno durante il lavoro. La TSA 230 può utilizzare la batteria AP300, è fortemente consigliata, ma può essere utilizzata a qualsiasi batteria del sistema Steel Pro. Per quanto riguarda la linea batteria integrata, è il prodotto di entry level che Steel sta presentando per l'utilizzatore occasionale che cerca un prodotto da 129 euro, quindi un prodotto estremamente competitivo come prezzo, ma con la qualità Steel, con un peso che veramente permette a qualsiasi utilizzatore di poter lavorare in assoluto comfort. Il plus di questo tipo di prodotto è leggerezza, prezzo, qualità Steel e tanti piccoli argomenti di vendita che permettono al prodotto di essere un unicum sul nostro mercato. La linea batteria compact è una linea di prodotto intermedia per l'utilizzatore privato esigente che ha bisogno di lavorare su una superficie di terreno fino a 500-600 metri con la possibilità di intercambiare le diverse batterie a seconda dell'esigenza di autonomia di prestazione di cui necessita. Abbiamo 5 prodotti e copriamo una gamma molto molto completa di prodotto per l'utilizzatore. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!